Sono Monica e sono una professoressa di Parlando Italiano. Hello, hi Monica and hi teach at Parlando Italiano School. Oggi impareremo delle frasi utili per una conversazione basica in italiano. I'm going to talk about some basic Italian phrases. Bene, questa è la mia stella. It is my star. Queste sono le mie risposte. These are my answers. La prima risposta è Monica. Quale sarà, secondo te, la domanda? What is the question? La domanda sarà... What's your name? In italiano si dice... Come ti chiami? Io mi chiamo Monica. Piacere! Nice to meet you! La seconda risposta è... 28. Quale sarà la domanda? How old are you? In italiano si dice... Quanti anni hai? La terza risposta è... Italiana. Quale sarà la domanda? Where do you come from? In italiano si dice... Di dove sei? Io sono italiana. La quarta risposta è... Madrid. Quale sarà la domanda? Where do you live? In italiano si dice... Dove vivi? Io vivo a Madrid. E l'ultima risposta è... Professoressa. Quale sarà la domanda? What is your job? In italiano si dice... Qual è il tuo lavoro? Io sono professoressa. Bene, adesso andiamo a giocare con un amico. Ciao! Ciao! Come ti chiami? Mi chiamo Alberto. E tu? Io sono Monica. Piacere! Piacere! Quanti anni hai? Io ho 31 anni. E tu? Io ho 28 anni. Di dove sei? Io sono spagnolo. E tu? Io sono italiana. Dove vivi? Io vivo a Madrid. E tu? Anche io. E tu? Anche io vivo a Madrid. E qual è il tuo lavoro? Io sono informatico. E tu? Io sono professoressa. Bene, adesso tocca a voi. Potrete giocare con i vostri amici creando la vostra stella personale a Parlando Italiano. Now, you can play with your friend at Parlando Italiano. I wish you have enjoyed this lesson about basic Italian phrases. And if you want to discover more about Italian language, you can visit our channel and YouTube. My Italian lesson Parlando Italiano. A presto! Ciao! 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 Grazie a tutti